L'inaugurazione della Sala Ristoro del Polo di Economia dell'Università dell'Aquila dopo quella dell'edificio polifunzionale di Coppito nel 2018 fa parte del piano di ricostruzione e di potenziamento dei servizi per gli studenti dell'Università dell'Aquila. Un importante passo avanti per fornire servizi alle centinaia di studenti che ruotano attorno al Polo di Economia che dal 25 marzo possono finalmente fruire di una sala mensa da 80 posti. C'è però ancora molto da fare sul fronte della residenzialità universitaria come sottolinea Pierluigi Biomonte Zobel, presidente dell'Azienda per il diritto agli studi universitari. Oggi la residenza universitaria ospitata nella caserma Campomizi fornisce 360 posti letto ad altrettanti studenti universitari ed è la più grande residenza universitaria in Abruzzo. Si sta lavorando per riportare la casa dello studente nel centro della città, nell'area dell'ex ospidale San Salvatore. Abbiamo mosso i primi passi per la ricostruzione delle nuove residenze perché questa residenza è una residenza di proprietà del Ministero della Difesa. È una condizione provvisoria nel senso che è temporanea, però è una condizione di qualità quindi abbiamo un buon gradimento da parte dei studenti che alloggiano. Ovviamente dobbiamo costruire la residenzialità del futuro e noi ci vogliamo collocare nel centro storico della città con almeno 300 posti letto. Quali sono le iniziative in campo in questo senso? In questo senso c'è un piano triennale di ricostruzione che è stato varato dall'Università dell'Aquila e approvato dal MIUR in cui siamo presenti anche noi con la residenzialità. Prima è stata approvata la prima annualità e adesso stiamo spingendo per l'approvazione della seconda annualità in cui c'è proprio la ricostruzione nel centro storico area ex ospedale San Salvatore. Di quanti posti stiamo parlando? Stiamo parlando di 100 posti letto per una residenza che costruirà l'università nella ristrutturazione e che darà in uso all'ADSU per la gestione e di un'altra residenza di circa 200 posti letto che invece sarà proprio di proprietà dell'ADSU. Non manca però la nota polemica con il presidente Biomonte Zobel che manda una frecciatina all'ex assessora Marinella Sclocco che ha negato, dice il presidente dell'ADSU, il finanziamento regionale necessario per avere un punteggio più alto per partecipare al bando nazionale della legge 338 per la costruzione di residenze universitarie.